Mi chiedono tutti i saluti alla radio Non fai date ragazzi, non fai date Una alla volta la rocca Saluto a tutti i luoghi, mando un abbraccio a tutti Una alla volta ragazzi, una alla volta Una alla volta ragazzi, non siete minchia Troppo la bloccate sennò eh Fatelo fare una alla volta Chi l'ha fatta esca fuori e si metta ad aspettare In una casa a fianco Ok? No aspetta ma scusate un po' ma stanno No ma aspetta ma stanno facendo teaming Quelli di Leo? Stanno quelli di Velox? Dai guardali che porci Sono i dieci in una casa Ma stanno facendo teaming Stanno facendo No che vergogna Veramente ridicola come roba Ma chi raga? Io ci sono dieci tuoi in una casa Sì No raga ditemi Ditemi chi sono Wow quanti sono? Vuoi vedere? Vuoi vedere? Tio saranno in una ventina dentro casa Sì C'è un alle uno che ha appena trombato uno della scuola Raga Raga fatela fare una alla volta Non si è tenuti dentro Raga Ma questi come cazzo giocano Ti prego Guarda li tutti insieme Guarda li scherzi così è una merda Giuro Ci saranno 25 dentro sta casa Sì dentro sta casa Gli altri 20 stanno prendendo un balone insieme Raga ma dove? Io non li vedo Ma state scherzando spero No 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 io stavo aspettando uno Ne ha trovati 20 Io ti prego I Grazie a tutti